In questo posto certamente affascinante e che recupera una realtà non solo naturale, ma culturale di rilievo, mi riferisco alla struttura che ci ospita. Mi sembra che queste tre giornate dedicate al tema tutto sommato del viaggio e di esperienze diverse e molteplici, non a caso, il titolo deriva da una rete di pesca e quindi un tentativo di raccogliere tutta una serie di realtà complesse. Il mio intervento ha la funzione di percorrere un itinerario a livello di tavole, vale a dire che di tavole tra l'altro lungo le coste del Mediterraneo e quindi un riferimento a paesi come la Spagna, la Francia, l'Italia, la Grecia e via dicendo, il tutto in una prospettiva storico-geografica. Geografica per quanto riguarda l'aspetto geografico, lo abbiamo appena detto, e per quanto riguarda invece quello storico, una serie di carrellate tra passato e presente da utilizzare per cercare di capire poi alcune nostre realtà contemporanee, a partire dalle denominazioni e quindi dal vocabolario gastronomico che ha radici lontane nel tempo e che testimonia, intendo dire, questo vocabolario, una serie di presenze registrate dalla storia, dai normanni ai greci, ai romani, ai francesi, agli spagnoli e via dicendo. E quindi un tentativo di lettura, virgolettato, del cibo in una prospettiva che è quella propria antropologico-culturale. Grazie.